Ultimo allenamento pomeridiano per i giallo-blu qui a Bad, prima di concludere il ritiro che appunto terminerà domani con l'amichevole in programma alle ore 17 contro il club Catariota dell'Aljaish, amichevole che si giocherà allo stadio di Siboden. Dopo allenamento anche oggi per i giallo-blu, alla mattina sono stati visionati direttamente dal direttore generale Giovanni Gardini, arrivato qui in ritiro per stare vicino alla squadra, allenamento appunto visto anche dal direttore sportivo Riccardo Bigon direttamente da bordo campo. Doppia seduta per il gruppo, alla mattina gruppo diviso in due, da una parte circuiti di forza e dall'altra esercitazioni tecniche con il collaboratore Zanchetta, nel pomeriggio invece dopo un riscaldamento e dei torelli tanta tantissima tattica sotto l'occhio attento di Andrea Mandorlini. Non hanno partecipato alla seduta Ionita che sta ancora guarendo da una botta al ginocchio assolutamente lieve e rimediata durante la partitella infrasettimanale giocata in famiglia, assenti anche Elander per una distorsione al ginocchio che non preoccupa assolutamente lo staff tecnico, e Fares che ha rimediato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per circa un mese. I gialloblu della prossima settimana torneranno ad allenarsi a Peschiera per preparare i primi impegni ufficiali, prima la Team Cup e successivamente l'esordio in campionato, ricordiamolo il 22 agosto alle ore 18 contro la Roma.